Musica Benvenuti a Rock News, il telegiornale che tutte le settimane vi elenca gli eventi live a Genova e in Liguria. E proseguiamo adesso con le serate live di sabato 24 febbraio. Partiamo da Little Italy in via Canneto lungo 22. Alle ore 22.30 gli Ageless tornano a calcare le scene del locale genovese per una serata all'insegna del rock'n'roll. Sabato 24 febbraio ci spostiamo al Beer Room in via Giovo 25 a Pontivrea in provincia di Savona per una serata metal con il roccioso Hard & Heavy dei Wicked Breed e le cover dei grandi gruppi metal degli anni 80 interpretate dagli Steel Disciple. Proseguono le serate live di sabato 24 febbraio dai nostri amici dell'Angelo Azzurro Club in via Borzoli 39. Alle ore 22.30 sul palco i Tenebre e i Maker of Time a seguire un DJ set a cura di Black Jean e Roberto. Questa è una serata speciale per l'Angelo Azzurro in cui i Tenebre presenteranno il loro nuovo batterista Marco CJ Campagnoni degli Stato d'Assedio e gli amici Maker of Time il loro nuovo singer e il nostro amico Claudio Boero. Terminiamo le serate live di sabato 24 febbraio all'Excalibur Pub in corso Garibaldi 64. A Chiavari alle ore 21.00 gli Stormwolf presenteranno il loro nuovo CD dal titolo Howling Wrath. Quindi sono nostri amici e li abbiamo intervistati poco tempo fa. Andate a vedere questo meraviglioso gruppo metal e tra l'altro vi ricordiamo che il loro disco uscirà il prossimo 2 marzo e quindi forza Stormwolf. E per le interviste di Rock News siamo qui con una faccia conosciuta in realtà di Antenna Blu che è Leila Zigliotto. Ciao, buonasera. Buonasera a voi e grazie per il gradito invito. Allora, tu in realtà, dicevamo prima che sei una faccia conosciuta perché in realtà sei la conduttrice di un programma qui su Antenna Blu che si chiama A Bocce Ferme perché tu mi dicevi, io non lo sapevo, perdona l'ignoranza, che tu sei una giocatrice di bocce. Sì, può risultare un po' strano perché sono una donna, una ragazza, le bocce nell'immaginario collettivo sono un po' relegate per un mondo un po' più anziano, un po' più maschile. Invece sì, ho questa passione familiare che coltivo da quando sono bambina come la scrittura e sono una giocatrice di bocce, gioco in nazionale per il Marocco perché sono italo-marocchina. Quindi questo sport mi permette anche di viaggiare, di muovermi, insomma alla faccia di quelli che mi prendevano in giro da bambina. Sì, ti è, intanto ti fai un sacco di viaggi. Poi tu mi raccontavi che c'entri anche con la musica perché suoni il pianoforte. Sì, ho studiato per anni al Circolo Risorgimento di Genova San Pierdarene, poi privatamente con una brava maestra, Maria Paola Biondi, che suona a livello internazionale. E poi non è che fossi una grande, insomma non è che avessi tanta voglia di studiare, il solfeggio l'odiavo e quindi improvvisavo più caldo sulla tastiera. E da poco tempo ho ripreso a suonare e mi cimento in qualche appunto improvvisata e mi piace tantissimo. Che bello, che meraviglia. Io ho smesso subito invece perché ero totalmente priva di talento, infatti mi sono messa a fare dell'altro. Però tu in realtà sei qui per presentarci, appunto prima ci accennavi che sei una scrittrice, per presentarci un tuo lavoro che si chiama, ha un titolo bello forte tra l'altro, perché il tuo romanzo si chiama Mia madre mi odia. Io intanto direi di fare come nelle migliori, ecco lo facciamo vedere così almeno giustamente facciamo vedere anche la copertina. Raccontaci la storia di questo, io l'ho chiamato romanzo, giusto romanzo? Hai detto molto bene, non è una biografia come si può pensare, perché comunque mia madre mi odia, può sembrare la storia della propria vita. Romanzo di narrativa è un libro che è riuscito l'anno scorso, che avevo autopubblicato, quindi era stata un po' una scommessa. Poi un editore al di fuori della Liguria l'ha notato, l'ha acquisito e l'ha distribuita in tutta Italia. È la storia di una ragazza, una giovane donna, che si chiama Sephora, che è costretta a vivere tutta la sua esistenza, infanzia e adolescenza sotto la prepotenza e la cattivera di una madre. E quindi diciamo che il libro vuole affrontare un tema un po' particolare, un po' atipico, specie se raccontato da una donna, ovvero il conflitto tra madre e figli. Ovvero vuole testimoniare che esistano anche madri che odino i propri figli. È un qualcosa che nella società sembra un po' strano, ma come può una madre non amare i figli? Eppure ci sono anche episodi come questo. Poi ho un libro che ha il titolo molto forte perché tratta temi forti, anche quello dello scontro-incontro fa culture diverse, molto attuale, quindi la cultura occidentale e quella arabo-islamica perché Sephora è figlia di un matrimonio misto. Quindi insomma ci sono anche una critica su certi elementi della cultura diciamo araba che non riescono ad assimilarsi nella nostra. E poi anche un'altra tematica che è quella dei padri separati perché io personalmente sono stata vicepresidente per un anno di un'associazione dedicata ai padri separati perché sono figlia di genitori separati. E diciamo che è una problematica prettamente maschile che Sephora, la protagonista, decide di denunciare in quanto dopo la separazione...